Io ho due bambini adottati, il grande è congolese, ha 12 anni, la piccola è etiope, ha quasi 7 anni. Sono stati ovviamente adottati in due momenti diversi, sono qui da quando la piccola aveva un anno e il grande aveva due anni, quindi sono assolutamente integrati, hanno amici, fanno l'accento anche un po' milanese, non hanno mai avuto problemi in questo senso. I problemi sono nati appunto negli ultimi mesi, quando secondo me si è un po' esagerato con i toni durante la campagna elettorale. Quindi ho scoperto, mia figlia era a casa della nonna, ha scritto un bigliettino, l'ha nascosto sotto il suo cuscino, quando la nonna me l'ha letto sono rimasta sconcertata perché nel suo italiano stentato, perché sta imparando a scrivere da tre mesi, ha scritto, spero che il signore che parla male di noi marroni, perché i miei figli si definiscono marroni e non neri, infatti anche noi mi dicono voi non siete bianchi, siete rosa, tutto molto razionale per i bambini, aveva scritto spero che il signore che parla male di noi smetta di farlo, comunque io lo ignoro. Quando io ho scoperto questa cosa le ho parlato la sera prima di andare a letto e lei mi ha raccontato che ha sentito dire a scuola o in televisione che c'è un signore che se vince diventa il capo e caccia via tutti i neri e quindi lei si è scoppiata a piangere perché ovviamente nella sua testa era un film che le aveva dato, insomma era un film del terrore, non un cartone animato. E quel signore è Matteo Salvini? Ebbè certo, mi è venuto in pente di scrivere il post che poi ho postato su Facebook quando dopo aver parlato con mio figlio avevo scoperto che aveva avuto degli insulti sull'autobus da parte di adulti, che cosa è scattato in me? Lui è africano, è adottato in Italia da dieci anni, quindi è anche abbastanza abituato a difendersi da insulti dei suoi coetanei. Capita a scuola ogni tanto, non ovviamente tutti i giorni, capita a calcio, però lui è assolutamente in grado di difendersi con le parole, di ignorare, insomma sa come fare. Quando però questi insulti arrivano da persone adulte che dovrebbero proteggere i bambini anziché insultarli, allora c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che è sbagliato. E quindi mi sono sentita in dovere di esprimere questo grido di dolore, di aiuto per la società che sta andando in una direzione, a mio avviso, pericolosa. La sensazione attuale è che si sia strumentalizzato il problema dell'immigrazione per raccogliere più voti. Mi sono arrivati tantissimi messaggi, migliaia di messaggi, ho smesso di leggerli domenica sera perché erano troppi, perché poi hanno iniziato a parlarsi in testa e ovviamente mi sono arrivati messaggi orrendi dove mi dicevano perché non hai preso i bambini bianchi invece che neri, che mi dicevano tu non sei una buona madre perché devi far vedere a tua figlia Peppa Pig invece dei comizi politici che difendevano la Lega, che difendevano Salvini. Però io in realtà non volevo fare un post politico, volevo fare davvero una lettera di denuncia sociale. Avevo scritto un finale che poi ho tolto perché quello è stato scritto in un input di rabbia, poi l'ho aggiustato, però sì, lo riscriverei assolutamente, assolutamente. Come andava a finire? Ti avevo scritto, spero Salvini che andrai in vacanza in Africa, che ti perderai e dovrei chiedere aiuto ad un nero. Però quello era proprio vum, una roba di pancia che è partita così. Salvini ha risposto che è pronto a offrire un caffè a far giocare assieme i vostri figli, lei accetterebbe? Io non dico, a parte che non bevo caffè, però se lui vuole mi chiama dopo le elezioni, ma non credo che lo farà perché a quel punto non gli servirò più, perché no, non si nega a nessuno. Io non so, non era, non odio Salvini perché è Salvini, non mi piace come lui comunica le sue idee. Quindi perché no, Salvini, dopo le elezioni andiamo qui a Parco Sempione a averci un caffè. Lei avrebbe paura di un governo di centrodestra, diciamo, con Salvini, ministro dell'interno o primo ministro? Paura non è il termine esatto, nel senso che siamo, grazie a Dio, in democrazia, quindi continuerei a fare la vita che faccio, sperando, spero solo che siano tutti abbastanza saggi da ridimensionare i problemi alla loro realtà, quindi non usare più toni così violenti, così di odio, così di astio. Chiaro, se la situazione resta così tesa, sarò io la prima a spingerli ad andare via, ad andare in Francia, ad andare nel nord Europa, negli Stati Uniti, in posti dove una persona nera è vista in un altro modo. Quindi se devo pensare che mio figlio l'unica possibilità di lavoro che ha è fare o il calciatore o il butta fuori da Zara, sarò io a spingerlo a calcioni ad andare via.